Buongiorno dal Touch per la rassegna stampa che apriamo con un ultimo ora il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia partenopea ha sequestrato all'interno di un container in sosta presso il porto di Salerno 2.800 kg di hashish e 1 milione di pasticche di anfetamine, peso complessivo a 190 kg. Gli stupefacenti erano nascosti in un carico di copertura costituito da oltre 4.500 capi di abbigliamento di varie marche, risultati contraffatti e anch'essi sottoposti a sequestro. L'ispezione del container è avvenuta in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e con l'impiego di un apparato scanner. Torniamo in studio dopo queste immagini. La prima del Roma per i giornali quotidiani cartacei, Movida infernale, feriti sei poliziotti, guerriglia in piazza Bellini, fermati tre giovani, traffico impazzito e addio alle mascherine. E poi l'altro volto, Super Mertens che vuole la Coppa Italia, il bomber e sempre più il cannoniere, ha superato Hamsik e primo in solitaria nella storia azzurra. E ora punta anche Ronaldo. Lidi aperti in sicurezza, ma sulle spiagge libere, situazione indecorosa. Parla Marco Esposito, gestore delle Rocce Verdi. Abbiamo tagliato 300 posti su 500, perdite enormi, ma non ci arrendiamo. Cosa prevede la nuova ordinanza della Regione? La riapertura delle discoteche e l'attività formative è già in vigore, ma da oggi anche se alle scommesse, cinema e teatri, le spiagge. Da domani il trasporto pubblico dal 22, il dettaglio anche sulle mascherine perché sarà stop all'obbligo, ma resta l'obbligo di indossarla nei luoghi chiusi. Cinema e teatri, la falsa partenza, Mirra ricominceremo dopo l'estate, Caccavale dobbiamo solo limitare i danni. Le sale non riapriranno, Luciano Stella, nessuna convenienza, punteremo solo sui luoghi all'aperto. Mi dettagli dalla fase 3. Spero che il virus non ritorni così, è difficile programmare. Marisa Laurito, questo mese presenteremo il cartellone del Trianon. Ed è guerriglia nella Movida, alta tensione, in piazza Bellini, feriti sei poliziotti, fermati tre antagonisti. La città nella morsa del traffico, chiusi due locali nel centro storico e altri tre multati nella zona flegrea. Manca il senso civico, non ci sono i controlli, il presidente della Municipalità di Chiaia, ognuno fa quello che vuole e dopo mezzanotte solo una pattuglia di vigili. Il centro direzionale potrebbe essere una risorsa, parla Barba di Mercurio, la proposta utilizziamolo come parco urbano e la sera luogo di aggregazione. I contagi preoccupa il dato Lombardo, in Campania nessun morto è un solo positivo nelle ultime 24 ore, il 72% dei nuovi infetti e la metà dei deceduti sono tutti in una sola regione. Da oggi l'app Immuni è attiva ovunque. Donne sempre più colpite dagli effetti del Covid, si sono ammalate più degli uomini e hanno subito anche altri effetti della pandemia, violenze aumentate del 73%. Pieni i traghetti per Ischia e Procida da Napoli. Le scuole aperte, la maturità definita blindata, oggi i docenti di nuovo al lavoro in presenza, poi mercoledì il via alla prima prova. I commissari dovranno indossare sempre la mascherina, gli studenti avranno un solo accompagnatore. In aula il 14 settembre il ministro dovrebbe dimettersi. L'ipotesi di un ritorno a singhiozzo manda su tutte le furie il governatore De Luca. atteggiamento irresponsabile. Frontiere aperte, l'Europa rifiata, archiviata la prima ondata di coronavirus, l'Unione Europea di nuovo senza confini. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio premiata la trasparenza dell'Italia, il turismo può ripartire. Il 61% degli italiani è pronto alle ferie, 9 su 10 trascorreranno le vacanze in Italia, ma la spesa prevista crolla da 45 a 42 miliardi. Castelli, innovare il paese come mai fatto prima. Il vice ministro dell'economia e delle finanze dobbiamo stabilire come ricostruire l'Italia post-Covid. Trasformeremo in leggi le idee di rilancio del paese. Tajani, perché il no al MES? Polemica nel centrodestra. Meloni, Fratelli d'Italia, coalizione compatta, per noi si poteva votare anche a luglio. Dopo la rivolta in carcere, trasferiti tre detenuti, Santa Maria, Capo Avetere e i promotori degli incidenti portati a Benevento, Avellino e Ariano Erpino. Arrivati 100 nuovi agenti. Notte di follia a San Domenico, centro storico, coreografia da stadio per commemorare la morte di Lollo. Case in base dal fumo e i residenti risultano poi barricati. È una movida a danno dei cittadini. Gennaro esposito l'allarme dei comitati. Basta un'indagine della questura per mettere un freno a questi casi. E poi un progetto per fermare la scia di sangue. Via Diocleziano, troppi incidenti. Il comitato commercianti chiede rialzi sulle strisce pedonali, telecamere e autovelox. Via anche alla petizione da inviare in prefettura. Tra i promotori anche il papà di un ragazzo investito mentre stava attraversando la strada. Pagine nazionali con Repubblica. I 5 stelle e i venti di scissione nel movimento. Botta e risposta di Battista Grillo, l'ex deputato. Un congresso subito. Il fondatore Reprica ha perso il senso del tempo. E lavora un direttorio per blindare Di Maio, l'intesa con il PD, e lanciare Conte, leader. Ciclone Dibba sui 5 stelle, chiede il congresso e si scontra con Grillo. L'allarme nel PD. L'ex deputato lancia la sua OPA sul movimento, elogia il premier ma lo sfida. Se vuole la leadership contiamoci. Orlando così gli dice di stare sereno. Rievocando un termine già utilizzato nel Partito Democratico. Paragone, il movimento ormai è una fake news. Ora bisogna far nascere un partito antisistema. L'intervista al senatore ex 5 stelle. Il garante vuole un direttorio ma c'è il rischio scissione. Idea Conte, leader dei grillini. Grillo blinda i 5 stelle di governo e il patto con il PD, isolando il frontman, perché la sua corsa per la leadership destabilizza l'esecutivo. Sul MES la trappola per la maggioranza. Un voto in Senato per attivarlo subito. La risoluzione di Più Europa sarà presentata mercoledì nella seduta sul Consiglio europeo. Imbarazzo per Dem e Italia Viva. Bonino basta con la telenovela dei veti di crimi e Di Maio. Il PD di Casiono al salva stati. Parla l'ex ministra degli esteri. Per Di Battista non c'è differenza tra me e Salvini. I troppi viaggi forse lo hanno ulteriormente confuso. Alta velocità digitale. Green economy. Il piano di rilancio del governo. Un libro dei sogni. In nove capitoli che conta sui soldi del recovery fund. Le priorità nella manovra. riforma fiscale. L'industria 4.0 e i pagamenti cashless. Il calendario in Villa Panfili. Le categorie. Archistare i giovani di Greta. Minniti. L'Egitto deve farci processare chi uccise Regeni. Parla l'ex ministro dell'interno. Imponiamo al Cairo una partnership esigente. no al ricatto di chi dice. Poi i principi o gli interessi. L'UE non lasci la Libia a Mosca e Ancara. La sanatoria migranti accelera. Ora le domande sono 30 mila. Scadenza fra un mese. Ma se il trend fosse confermato la cifra finale sarebbe sotto le aspettative. avanti con i dettagli dalla regione. Su Repubblica via la caserma dei carabinieri dal palazzo dei fratelli Cesaro. Dopo la denuncia di Repubblica prefetto e arma Bienoliter per il trasferimento in altri uffici. E la movida violenta con foto centrale piazza Bellini arresti e controlli tafferugli e cori contro la polizia. Maturità, screening completato, nessun positivo su 13 mila tamponi. Il bilancio della regione sui docenti e il personale scolastico che si sono sottoposti ai test a tre giorni dall'inizio degli esami nelle scuole. Il presidente De Luca, operazione unica in Italia. E chiede inoltre le dimissioni della ministra Azzorina. Una vergogna di aprire il 14 settembre. Centro sociale invade piazza San Domenico con fumogeni rossi. La protesta del presidente di Municipalità dei Verdi e dei Comitati volevano commemorare un amico, ma così è inammissibile. La caserma dei carabinieri andrà via dal palazzo dei fratelli Cesaro a Sant'Antimo la svolta dopo il caso sollevato, dopo lo scioglimento per mafia, prefetto e commissari d'intesa con l'arma a Viano Liter per il trasferimento della tenenza nella ex polisportiva degli stessi fratelli inquisiti, immobile che oggi appartiene al Comune. In Piazza Bellini, arresti e controlli, tafferugli e cori contro gli agenti. Il centro sociale Mezzo Cannone, occupato, sostiene che tre suoi attivisti sono stati fermati senza ragione, definendolo un abuso. E poi lo sport, gli azzurri con Gattuso patto per battere Sarri, la squadra dedica a Ringhiola conquista della finale di mercoledì con la Juve del grande ex all'Olimpico di Roma, però sarà out o spina, squalificato, titolari Meret, Mario Rui, Fabian Ruiz e Kayejon. Colibali, Mertens è diventato un killer e il nostro Higuain. Napoli, quanto ci sei mancato e adesso alziamo la coppa. La passione azzurra si riaccende dopo 105 giorni di stop legato all'emergenza Covid. Massimiliano Gallo vinciamo con un autogol di Chiellini, ce la giochiamo invece il commento di Bruscolotti. Andiamo anche con le prime pagine nazionali del mattino. Sfida a Conte 5 Stelle a pezzi ed è resa dei conti sul Premier di Battista. Lui il leader del movimento si iscriva e vediamo chi vince. L'altola di Grillo vivi nel passato, sei fermo al giorno della marmotta. I 5 Stelle sono un problema. L'anfiteatro di Spartacus assediato dalla Movida, Santa Maria Capovetere dopo la mezzanotte scoppia il delirio. Di Battista sfida a Conte, secco altola di Grillo, tu vivi nel passato. L'ex parlamentare Premier Capo 5 Stelle, prima si iscriva a congresso subito e vediamo chi vince. Fondatore sarcastico, dopo Terrapiattisti e Gilea Arancioni pensavo di aver visto tutto. Tutto pronto per la scissione di luglio, anche i vertici però stufi di Palazzo Chigi. Dibba contro il PD punta a fare piazza pulita dell'attuale nomenclatura, con lui pochi eletti ma molta base. Spunta un nuovo asse tra Di Maio e Franceschini, la rottura tra Beppe e Casaleggio. Uno scambio messo autostrade, mossa del Premier per blindarsi, il sostegno di Grillo rassicura Conte, ma il PD, i 5 Stelle, un problema reale. L'ipotesi del via libera al salva stati con l'uscita di scena dei Benetton da Aspi. Secondo mandato, la regola a Mazzabig, Raggi e Appendino, le prime a rischiare le tensioni nei 5 Stelle. Gli stati generali dall'alta velocità al 5G, il piano per il rilancio. Ecco i fatti concreti. Conte riparte da sindacati e denti locali in giornata, la relazione di Colau, il masterplan con le nove proposte dal Green alla pubblica amministrazione. Più contratti e laboratori, così riparte l'Università, l'intervista a Gaetano Manfredi, il ministro con il Recovery Fund, aumenteremo il numero di matricole, misure a sostegno del diritto allo studio e corsi per diplomati degli istituti tecnici. La scuola, la fondo di De Luca, azzolina da dimissioni. Tamponi, nessun prof positivo, istituti aperti il 14 settembre a una settimana dal voto. Il governatore torna ad attaccare il ministro, completato lo screening dei commissari in Campania. In 12.862, tra docenti e personale ATA, si sono sottoposti ai test su 21.345. La proposta del PD a scuola, niente voto. Controlli, ora tocca a odontoiatri e farmacisti, nelle ex zone rosse, test rapidi a tappeto. La maturità maxiorale al via, un'ora sola e ragazzi confusi. Oggi la scuola torna in presenza, si riunisce la commissione fissa, il calendario dei colloqui. Da mercoledì le prove tra mille incognite. Un candidato su cinque non sa ancora come si svolgerà. vaccino di Pomezia, dieci giorni per le prime risposte ai test in campo anche Stati Uniti e Cina. L'Italia punta sul farmaco di Oxford, della laziale IRBM, ma i laboratori in corsa sono molti. Siamo avanti, ma nella sperimentazione l'inciampo è dietro l'angolo la sfida sui brevetti. inoltre l'RT sotto l'uno non è un dogma. Pronti a migliaia di focolai, l'intervista al Walter Ricciardi, il consulente del governo, un solo indice non basta a motivare nuove chiusure, prepariamoci a tanti casi come quelli di Roma, fondamentale l'app di tracciamento. Andiamo con i riferimenti anche nelle varie province. Da Napoli il PD avverte De Luca, troppi trasformisti, Sarracino, Noa Russo di Sant'Antimo, dubbi su Raya e Beneduce. Ma è caos, Movida, Corie Fumogene e anche l'Inferno a San Domenico. De Luca a duello sulle liste, il PD stop ai trasformisti. I candidati scomodi agitano i Dem in settimana vertice per alzare il muro. Il primo no è per Russo di Sant'Antimo, dubbi per Lex, Azzurre, Raya e Beneduce. Sindaco tentato dalla corsa con lo scontro, Dema Junior Insurgenzia. Il fratello dell'ex PM spinge per un accordo con il PD, ma i centri sociali sfidiamo De Luca. Non vedo impresentabili chi alza polveroni e sbaglia. L'intervista a Maria Grazia Pagano, la coordinatrice di Italia Viva, avverte che nel 2015 la bimbi accusò in vano De Luca. Noi renziani non siamo certo trasformisti, l'ex cosentinana Raya, nessun problema. Fumo e corrida Ultras, Inferno San Domenico, la rabbia dei residenti, flash mob per ricordare un giovane morto, la Municipalità Centro Storico nel caos. Piazza Bellini in serata scontri con la polizia, agenti accerchiati, autodanneggiate e anche contusi. I giovani una risorsa ma rispettino le regole. In Campolo Scultore Lello Esposito, Piazza San Domenico è un bene di tutti. I ragazzi non vanno criminalizzati, però i residenti hanno diritto al riposo. In sospeso 30.000 esami per ridurre le liste d'attesa a visite anche di domenica. Il piano straordinario degli ospedali per far fronte all'emergenza post-Covid, entro la fine di luglio, tempi più brevi al Monaldi, controlli anche di pomeriggio. Io dal Cotugno allo stadio porto le vittime nel cuore, parla Lara Natale, la dirigente dell'ospedale in Trincea al San Paolo, pregato per tutti i morti nei momenti critici mascherine introvabili, le ho comprate in Cina grazie a Cannavaro. Riferimento anche ad Avellino, caso festa, manca la sede per il Consiglio, i capigruppo si riuniscono per programmare la seduta sulla Notte Brava di Via dei Concilis, poi caccia caccia alla Pantera, si fa sul serio altre tracce a Sant'Angelo a scala. Forza Italia, Martuscello ridisegna lo scacchiere e chiama Preziosi, il neo coordinatore ad Avellino Città vogliamo ricostruire il partito attorno al Consigliere Comunale, la lista di partito vede al momento schierati Auffiero, Di Cecilia, Ruggero e Filomena Gambacorta, Gambardella con più Europa al fianco di De Luca e il PD sia meno populista. Consiglio senza location è già scontro, in mattinata alla conferenza dei capigruppo per discutere la convocazione di una seduta sulla Notte Brava del Sindaco, centro sociale bocciato, ancora nessun sopralluogo al teatro, allo Stato è impossibile organizzare una riunione in presenza. Iacovacci, PD, è chiaro che la maggioranza voglia far slittare la discussione sugli assembramenti. Piscina arriva in teoria il giorno dello sfratto, ma la polisportiva potrebbe restare ancora. Retico Labrodo, i sindaci, fondi UE o nazionali per non perdere acqua. Gli amministratori di Teora, Pietrastornina, Rotondi, Adripalda, progetti di rifacimento in corso, ma servono risorse aggiuntive. Limone, vent'anni di ricerca anche contro i pregiudizi, riconfermato al vertice dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici, coronavirus in prima linea da Ariano ai test sui docenti per far ripartire gli esami. Caccia alla Pantera, si attende il via libera della Prefettura, proseguono le ricerche con il drone, se autorizzata la battuta sarà organizzata con cani addestrati, vietato uccidere l'animale. Da Benevento, rifiuti scontro sul mega impianto, la provincia no al biodigestore da 110.000 tonnellate al Sannio, serve da 30.000. Di Maria, tavolo con ente d'ambito e asi sul progetto nell'area industriale, mollica 5 stelle e meglio piccoli siti. Movida, tensioni tra i vicoli e nuovi assembramenti. In Piazza Verdi due colluttazioni tra gruppi separati da altri ragazzi e il gestore di uno locale, criticità in via Cardinal di Rende, rifiuti a Santa Sofia, presenza in sicurezza a Piazza Bari e Piano di Corte. Influenza corsa al vaccino, previste 100.000 dosi. Luciani, gestione a flussi nodo centrale da gestire con i 181 medici, a guardia quarto test all'ultimo contagiato, tamponi, confermata negatività per i prof. Ferrovia per Cancello e Diga, le priorità agli stati generali, Campo Lattaro, lo sfruttamento produttivo, l'altro obiettivo all'attenzione del governo. Mega biodigestore no della Rocca, rifiuti di Maria Contrario a sito da 110.000 tonnellate, a noi serve da 30.000, tavolo con ente di ambito e asi, le 5 stelle, ipotesi sproporzionata per il sannio, meglio prevedere piccoli impianti di compostaggio. Sbanda con il quad e finisce fuoristrada padre e figlio feriti, il 29enne in prognosi riservata, non grave il bimbo di 5 anni, l'allarme lanciato da passanti in corso le indagini dei carabinieri. Riferimenti anche a Caserta, l'alcol e lo sballo nel weekend, poi il degrado, 150 quintali di rifiuti recuperati, domenica mattina bottiglie gettate ovunque. E poi la foto con la violenza in carcere, trasferiti detenuti della rivolta, 100 agenti in malattia per stress. Il Sant'Anna è covid free, rimasto un solo contagiato, il neomanager Gaetano Gubitosa sta raccogliendo le esigenze dei reparti, presto un piano di potenziamento e la riattivazione di tutto l'ordinario. I contribuenti si fidano poco dei loro comuni, scarse le somme del 5 per 1000 destinate alle amministrazioni locali, in molti preferiscono premiare associazioni, onlus e università. Assalti alle coppiette con mazze e coltelli, un arresto, tren, fuga, fidanzati picchiati e rapinati in auto, bloccato un ventenne albanese nomade, caccia all'uomo tra Napoli e Caserta per rintracciare i complici scappati. La Proloco, premiato l'Alto Casertano, i finanziamenti stanziati dalla regione, 750 mila euro di contributi per incentivare le attività connesse al turismo locale, Cajanello, Piedimonte, Teano, campioni d'incasso con il Parco del Matese, meno stanziamenti per il litorale. Da Salerno al Colerrisse chiusi ben nove locali, movi da caos a Salerno, scatta il pugno di ferro contro i bar che vendono liquori dopo le 22, controlli a tappeto di polizia e carabinieri, il sindaco Napoli, punizioni severe per chi viola le regole. Mascherine d'autore, la sfida, scaccia crisi dei negozi semi vuoti, d'alta moda in l'Urex o per bambini, così le protezioni diventano di tendenza. Le clienti entrano per acquistarle e poi comprano anche abbigliamento. E ritornano gli riducibili del trekking, boom, prenotazioni e voglia di libertà. A Salerno, in Costiera, a Cava e ai Picentini, gruppi poco numerosi e più turni al giorno, gli organizzatori, mai tante richieste. Movida, alcol e caos, una rissa avvia canali chiusi, nove locali, polizia, carabinieri e vigili passano al setaccio Centro Storico e Lungomare, stop ai bar per 5 giorni per la vendita di bottiglie dopo le 22, multe a 4 giovani. Il sindaco Napoli, bene i controlli, ora punizioni severe per chi con la droga e l'abuso di liquori crea rischi agli altri. Botte tra due ragazzi a Cava, in ospedale poi le denunce, l'altro fronte caldo. Esame di maturità senza 1.166 studenti iscritti alle superiori nel 2015 hanno abbandonato le lezioni prima dell'emergenza Covid senza concludere il percorso scolastico. Statali e istituti paritari ai nastri di partenza 14.391 alunni, sessione straordinaria a settembre per 573 candidati privatisti. Migrante ucciso dal rogo a Foggia Saveriani a lutto morto sfruttato. Mohamed non è sopravvissuto all'incendio nel ghetto pugliese, è stato per anni ospite della comunità laica per senza tetto a Salerno. Andiamo sul sito ottopagine.it per le ultime dalla regione, nel dettaglio in apertura i 13.000 tamponi a docenti e operatori, nessun positivo, bassa l'affluenza però, il totale da testare era di 21.000, De Luca, noi unici in Italia. Concorsi truccati, il caso a Benevento, quell'humus favorevole nella società, la riflessione del dottore Maurizio Pizzella sull'inchiesta dei giorni scorsi. A Solopaca bar dedica un gelato al dottore Ascerto e un tributo al nostro concittadino impegnato nella lotta al Covid. Ad Atripalda, in Erpini, a controlli anti-Covid, chiuso un locale, vendeva bevande alcoliche da asporto anche dopo le 22.00. Tornando all'home page, emergenza carceri, parlano i garanti, sì all'utilizzo di PC e tablet. L'idea nasce in seguito ad un incontro tra Ciambrello, Mele e Ioia. A Montella, in Alta, Erpini, a pneumatici forati a sette auto nel mirino i cercatori di funghi. Inquietante episodio a Verteia. Episodio ieri mattina, sette auto parcheggiate lungo la strada comunale che conduce all'altopiano di Verteia, sono state ritrovate danneggiate. Sette vetture di proprietà di cercatori di funghi avevano gli pneumatici forati, l'episodio si è verificato in località Ceraso. Le sette vetture sono state danneggiate con la foratura di due pneumatici sascuna. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montella, indagini in corso per risalire all'autore del gesto. Dalla sezione Napoli, Lite per gelosia va in ospedale e accoltella i rivali in amore. A Villa dei Fiori erano in clinica dopo la Lite e lì è avvenuto l'accoltellamento. Litigio in strada finisce accoltellate in ospedale dove un uomo ha ferito tre persone, di cui una in maniera grave per motivi sentimentali. Fatti accaduti nella clinica Villa dei Fiori a La Cerra, nel napoletano, dove Pasquale BF, 46n, già noto alle forze dell'ordine, ha colpito con vari fendenti Pasquale C, 51 anni, poi ricoverato nell'ospedale Cardarelli di Napoli in gravi condizioni e inoltre Carlo C, 60n ed il 43n Vincenzo E. Il 46n arrestato dai carabinieri per tentato omicidio era arrivato in clinica con il padre dopo una Lite in strada che i due avevano avuto con le tre persone ferite a causa di una pregressa, relazione sentimentale tra Pasquale C e la moglie dell'arrestato. Poi nel dettaglio Mertens nella storia, Napoli che vuole in finale di Coppa Italia mercoledì la sfida, da Salerno Movida chiuso un bar nel centro storico, sanzionati 4 giovani. Ringrazio in regia Aldo Fenizia, è tutto per la rassegna stampa, buon proseguimento sul canale 696. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!